SESTA DOMENICA DI PASQUA DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli, Semi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi, ancora un poco, e il mondo non mi vedrà più. Voi, invece, mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno, voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me, sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò, e mi manifesterò a Lui. Commento al Vangelo della Domenica di Papa Francesco Il Vangelo di questa Domenica presenta due messaggi. L'osservanza dei comandamenti è la promessa dello Spirito Santo. Gesù lega l'amore per Lui all'osservanza dei comandamenti, e su questo insiste nel suo discorso di addio. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Gesù ci chiede di amarlo, ma spiega, questo amore non si esaurisce in un desiderio di Lui, o in un sentimento. No, richiede la disponibilità a seguire la sua strada, cioè la volontà del Padre. E questa si riassume nel comandamento dell'amore reciproco. Il primo amore, nell'attuazione, dato da Gesù stesso. Come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Non ha detto, amate me come io ho amato voi, ma amatevi a vicenda come io vi ho amato. Egli ci ama, senza chiederci il contraccambio. È un amore gratuito quello di Gesù, che non ci chiede il contraccambio, e vuole che questo suo amore gratuito diventi la forma concreta della vita tra di noi. Questa è la sua volontà. Per aiutare i discepoli a camminare su questa strada, Gesù promette che pregherà il Padre di inviare un altro paraclito, cioè un consolatore, un difensore che prenda il suo posto e dia loro l'intelligenza per ascoltare il coraggio per osservare le sue parole. Questo è lo Spirito Santo, che è il dono dell'amore di Dio che discende nel cuore del cristiano. Dopo che Gesù è morto e risorto, il suo amore è donato a quanti credono in Lui e sono battezzati nel nome del Padre, ed è figlio e dello Spirito Santo. Lo Spirito stesso li guida, li illumina, li rafforza, affinché ognuno possa camminare nella vita, anche attraverso avversità e difficoltà, nelle gioie e nei dolori, rimanendo nella strada di Gesù. Questo è possibile proprio mantenendosi docile allo Spirito Santo, affinché con la sua presenza operante possa non solo consolare, ma trasformare i cuori, aprirli alla verità e all'amore. Di fronte all'esperienza dell'errore e del peccato che tutti facciamo, lo Spirito Santo ci aiuta a non soccombere e ci fa cogliere e vivere pienamente il senso delle parole di Gesù. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. I comandamenti non ci sono dati come una sorta di specchio, nel quale vedere riflesse le nostre miserie, le nostre incoerenze. No, non sono così. La parola di Dio ci è data come parola di vita, che trasforma il cuore. La vita che rinnova, che non giudica per condannare, ma risana e ha come fine il perdono. La misericordia di Dio è così, una parola che luce ai nostri passi, e tutto questo è opera dello Spirito Santo. Egli è il dono di Dio, e Dio stesso, che ci aiuta ad essere persone libere, persone che vogliono e sanno amare, persone che hanno compreso che la vita è una missione per annunciare le meraviglie che il Signore compie in chi si fida di Lui. La Vergine Maria, modello della Chiesa, che sa ascoltare la parola di Dio e accogliere il dono dello Spirito Santo, ci aiuti a vivere con gioia il Vangelo, nella consapevolezza di essere sorretti dallo Spirito, fuoco divino che riscalda i cuori e illumina i nostri passi.